Ciao, siamo qui a Dantechera dove abbiamo fatto un'altra parte del nostro viaggio dei tre giorni di luce. Oggi è la giornata connessa al tema della morte. Al tema della morte dove stiamo lavorando proprio sul lasciare andare tutta una serie di paure, dove abbiamo toccato proprio il tema della morte e dove andremo a lavorare su tanti aspetti dell'esistenza dell'essere umano che in qualche modo stanno limitando l'essere umano. Quindi oggi facciamo la parte connessa proprio al lasciare andare tutto ciò che tu non sei, al morire come essere umano e a rinascere poi domani come essere divino. Quindi buona giornata, continua a seguirci così ti aggiornerò sui passaggi che stiamo facendo. I ragazzi sono ancora tutti vivi, guardate, sono tutti vivi e nessuno è deceduto nonostante gli esercizi che abbiamo fatto sino ad ora. Buona giornata e a prestissimo, ciao! Grazie a tutti!